Simone Morgana, ma esattamente cos'è che è contestata l'amministrazione comunale? Cos'è che non vi piace? Allora, due cose fondamentali. Il primo è il metodo e questo significa generalizzare la cosa perché per ogni attività che facciamo noi abbiamo un metodo che vogliamo seguire che è quello della condivisione delle idee e dei progetti e questo è mancato in maniera molto forte, tant'è che non l'abbiamo percepito solo noi come gruppo consigliare ma l'ha percepito l'intera città dopo aver eseguito l'intera campagna elettorale e nel programma questo discorso di trasparenza e condivisione era stato espresso in maniera molto chiara. Secondo, la mancanza di un metodo ha portato anche a delle scelte che poi non sono state condivise e l'accordo di programma, secondo noi, è diventato una sorta di manifesto di questa cosa dove andando a individuare una politica industriale che poi ricadeva ad ombrello sull'intera città ha portato ad una precisa direzione della giunta. Noi abbiamo contestato questa cosa ma l'abbiamo contestata in maniera costruttiva. Noi abbiamo mandato un documento dove punto per punto andavamo a dire cosa invece coincideva sia con le linee programmatiche sia con quello che poteva essere la nostra idea di sviluppo. Credo che la risposta attuale dell'amministrazione sia di distacco rispetto a questa nostra proposta perché anziché accogliere e modificare quello che doveva essere è stato mandato alla stampa un po' dovunque fatto girare e si è detto che dovrebbe essere il Consiglio Comunale a decidere su questa cosa. E' chiaro che a quel punto noi riteniamo che anche su questo piano politico ci sia un distacco. Sono passati soltanto 5 mesi dall'insedimento della giunta messinese e il matrimonio sta per compromettersi. Ma diciamo che ad oggi parrebbe così, però noi siamo aperti a un cambiamento di rotta nel senso che noi facciamo delle richieste ben precise al nostro sindaco e quindi se lui ci concedesse un confronto e comunque di ritornare a quelle che erano le linee programmatiche della campagna elettorale e quindi del programma Movendo 5 Stelle, noi ci siamo e ci saremo sempre. Voi riconoscete in domenica messinese il vostro sindaco? Ma lui è il sindaco del Movendo 5 Stelle, lui è un eletto come lo siamo noi sicuramente. Arroccarsi dietro le posizioni di assessori che non sono eletti ma sono nominati e che non sono espressioni del Movendo 5 Stelle ma non è un'offesa, attenzione, ognuno ha le appartenenze che preferisce. Noi sì, riconosciamo in lui il sindaco del Movendo 5 Stelle, è chiaro.